Signori e signori buonasera, dallo stadio in Villa San Giovanni di Rosciano, gruppo Zeman, Salvatore Pedimonte e Antonio Casale, incontro ForzaVescara.tv al centro Donati e il sottoscritto Luciano Rauro. Invece la reddita di parte Mauro Di Matteo e il nostro caro Fabio, le riprese. Una cosa importante, cento alli, cento campo facciamo giocare Cascione, a sinistra... ...che oggi non ha giocato, quindi ha riposato. Cascione per me il centrale di riferimento, a sinistra Lorenzo Insigne, cento avanti Pierluigi Casiraghi e a destra Rambo Rambano. Coppinetti in difesa Grimaudo Briegel e chi mette in posto? Rispondiamo con Beppe Signori, Ciro Immobile e Rocco Pagani. In difesa, Patanino e Nostra. Mi sono assoddivo, non gioca neanche qua. Ciao Danilo. Ciao Danilo. Pazzarone quando subisce il gol al centro... No, palo in difesa. Ok. Vado. Scusate. 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 Grazie. Ok, quei tre pattoni, tutti e due. Un tiro in porta, vogliamo un tiro in porta. Riminiera timido, qui è un po' più, o no? Un tiro in porta, vogliamo un tiro in porta. Alla mezza. Alla mezza. Alla mezza, alla sera, il fratto. Ciro, smettiti, Ciro. Chi? Ciro! Oddio no! 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 Un gioco di squadra, eh! E' sicuro che non abbiamo schierato un fact, c'è stato. Mano! In area anche. Grazie